Ehi, ma hai scaduto il tira un po', no? Chi-chi, ma hai scaduto il tira un poco Sì! Sì! ... ... N friends! I don't need to get rid of the webcam... Sto finendo, sto alzando il vento Sto finendo, sto a prendere, sto a prendere Sto a prendere un pò Sto a prendere un pò c'è le onde così spettinate qui non le vedo da molto non sa che adesso è un piaudone inizia che la foji sta venendo giù buoni 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 ma è stato che mi schiaccia e poi cominciamo c'è qui? oh ah 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 non avranno sbagliato non avranno sbagliato Alla prossima Oh 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 Ecco il crampo Aiaiaiaiaiaia I I I I I I ahahahah ahahahah ahah haah ah 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 no 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 è un'altra cosa che non c'è la tormenta e questo è il bel esercizio è il meno male che è scaduta e questo è il bel esercizio potremmo andare al d'aquila subito non 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 c'è la mano, sta verso l'arrivo tre crampi, basta non parlo abbiamo adatto adesso addorcio se riusciamo a uscire 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 alla prossima